Ha consegnato questa mattina le dimissioni da assessore della giunta Piccitto, Salvatore Martorana, rappresentante di Participiamo, che lascia l'incarico con l'amaro in bocca. Alla base ci sarebbero le dimissioni e la mancata rielezione di Giovanni Iacon. È atteso da cinque anni il PRG a Ragusa. La regione è pronta ad inviare un commissario ad acta, intimando l'ufficio e il dirigente a presentare lo strumento in termini brevi. La delibera di giunta del 2015, ancora prima di passare in consiglio, è già contestata. Le condizioni meteo nel suddeste della Sicilia dovrebbero migliorare nelle prossime ore. Intanto ieri e la notte scorsa interventi per alberi sradicati dal forte vento. Questa mattina un incidente è stato alla Scoglitti, probabilmente per l'asfalto viscido dalla pioggia. Dopo anni di attese, i genitori degli studenti che frequentano il boccone del povero distaccamento dell'istituto comprensivo Ciaceri rompono il silenzio. Se le aule non saranno trasferite in una nuova sede, saranno messe in attuazione di protesta. Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su video mediterraneo. La politica dunque è in apertura. Ha consegnato stamattina le dimissioni Salvatore Martorana, da assessore al comune di Ragusa, con delega ai servizi sociali, sviluppo economico, agricoltura, pubblica, istruzione. Nessun rammarico nei confronti dell'Aggiunto o del sindaco Federico Piccitto. Anzi, per quest'ultimo Martorana ha riservato parole di profonda stima. La motivazione delle dimissioni di Martorano rientra nella crisi politica all'interno della maggioranza, la cui risoluzione sembra ancora molto lontana. Ce ne parla Viviana Sammito. Salvatore Martorana lascia la giunta Piccitto. Il rappresentante di partecipiamo all'unico non grillino in giunta ha consegnato stamattina le dimissioni dopo averlo fatto intendere con un comunicato stampa diffuso ieri nel primo pomeriggio a margine di un incontro con il sindaco Federico Piccitto e il consigliere d'ex presidente del Consiglio Comunale Giovania con lui e il pomo della discordia. Dopo le dimissioni da presidente del civico consesso, dopo la mancata rielezione, Salvatore Martorana ha pensato di lasciare ma ha voluto perdere tempo per tentare di ricucire la rottura con l'aleato 5 Stelle ma non c'è stato verso. Nessuna chiarezza, nessuna soluzione alla crisi di maggioranza. L'ex assessore ha risposto al telefono stamattina con serenità e piena disponibilità definendo il sindaco Federico Piccitto una vittima sacrificale su cui tutti si stanno scagliando, compresi i suoi del Movimento 5 Stelle. Profonda stima verso Piccitto e Salvatore Martorana difende anche Stefano Martorana, l'assessore al bilancio dagli attacchi dell'opposizione in merito ai rilevi della Corte dei Conti sul consuntivo 2013 e sulle partecipate definendoli solo un modo per fare politica. In realtà Martorana ha già chiarito, secondo quanto è riferito l'ex assessore, tutto all'organo di controllo dei bilanci degli enti. Dal canto suo Stefano Martorana ha spiegato che preferisce non intervenire sulla situazione attuale al Consiglio. Salvatore Martorana lascia l'incarico tuttavia con la mare in bocca per non avere potuto continuare i progetti che gli stavano a cuore. L'accreditamento dei centri per due o tre anni per il servizio dei disabili, l'accordo con la Caritas per ospitare gli sfrattati dalle OCP e la regolarizzazione delle posizioni abitative. Il piano commerciale è pure rimasto in sospeso, ma a Martorana, tra le altre cose, si deve alla riflessione scolastica nelle scuole ragusane con tariffe basse e persino alla collaborazione di un nutrizionista, il trasporto bus gratis, la consegna dei lotti artigianali per quanto riguarda lo sviluppo economico, intervenire sulle dimissioni e il circolo pippotumino del PD di Ragusa. I grillini alla fine un Martorana lo hanno fatto fuori, ma non il Martorana pentastellato che poco digeriscono, si legge nella nota, ma il Martorana alleato, ora ex, mentre Piccitto rimane sempre più solo. Viene fuori in tutta la sua complessità una crisi che ormai si trascina da diversi mesi. A commentare il seretario del circolo, Pippo Tumino, del PD di Ragusa, Gianni Lauretta, i democratici si chiedono curiosi quali strategie dovrà inventarsi Piccitto per tenere la nave a galla, visto che i numeri in Consiglio Comunale potrebbero essere risicati e visto che la stessa maggioranza in Consiglio Comunale sfiducia di fatto l'azione amministrativa del Sindaco. Restiamo ancora a Ragusa, tecnici al lavoro per la revisione del PRG. Il piano regolatore generale è fermo da cinque anni. La regione siciliana ha dato l'out-out al Comune per la presentazione del PRG aggiornato. Pena l'invio di un commissario ad acta, intanto a contestare alcune scelte dell'Aggiunta e Confindustria. C'è da revisionare il piano regolatore generale a Ragusa. Lo strumento urbanistico aggiornato è atteso da cinque anni. Anche dalla regione siciliana, che ha intimato l'ufficio e il dirigente a presentarlo in tempi brevi, in caso contrario il governatore è pronto a inviare un commissario ad acta. A settembre 2015 era stata approvata la delibera della Giunta Municipale sulla variante al piano regolatore generale ARA Ex Parco Agricolo Urbano e Aerolimitrofe e alle aree per la diritta residenziale pubblica. Non lo strumento propedeutico all'approvazione del PRG. La delibera di giunta dal 24 marzo 2015, la numero 142, riguardante l'articolo 48, che dopo il vaglio della Commissione dovrà essere posta ai voti del Consiglio Comunale, è già contestata. Con la nuova formulazione c'è il rischio di ingiossare lo sviluppo dell'economia ragusana perché sono state individuate delle aree dove è vietata la realizzazione di impianti in industria energetica, di impianti di fonti rinnovabili, gasdotti ed elettrodotti, tutte opere che hanno una valenza strategica e di pubblica utilità. A puntare il dito contro questa delibera era stata già Sonia Migliore, consigliera comunale di lavoratore 2.0, ad intervenire pochi giorni fa è stata anche Confindustria per evitare l'adozione di un provvedimento connotato da profili di legittimità, considerato che l'attività energetica è di competenza della Regione e non del Comune, oltre a volere evitare il rischio di azioni esercitorie, in danno delle casse comunali e dei cittadini dunque. Alla luce della discussione in aula sulla delibera di giunta Confindustria, ha inviato una lettera a tutto il Consiglio Comunale e alla Giunta, con una proposta di riflessione. Le attività di ricerca, esplorazione ed estrazione degli idrogarburi nel Comune di Ragusa e nelle zone limitrofe sono presenti da oltre 50 anni e non hanno mai provocato danni o problemi all'ambiente. L'eventuale approvazione della delibera importerebbe a un blocco indiscriminato di tutte le nuove attività di esplorazione e ricerca di petrolio o gas insistenti nel Comune di Ragusa, con gravi ripercussioni economiche per le società che operano sul territorio. Infine Confindustria ha chiesto al Sindaco, alla Giunta e al Presidente del Consiglio Comunale di riflettere profondamente sul provvedimento in itinere, perché potenzialmente dannoso per l'economia del territorio, sia direttamente con il futuro decremento e il potenziale azzeramento delle royalties, sia indirettamente per la perdita di centinaia di posti di lavoro. Vertenza Corfilac, il Comune di Ragusa e l'Università di Catania in qualità di soci sono stati convocati dall'assessore regionale dell'agricoltura Antonello Cracolici per il prossimo 4 aprile affinché si possa trovare una soluzione per mantenere intatto e ai più alti livelli di operatività il presidio Corfilac di Ragusa. E' quanto emerso dall'incontro di oggi tra i dipendenti del Corfilac, gli onorevoli di Giacome Ragusa e le organizzazioni sindacali e le RSA. Questa mattina si è parlato della situazione del consorzio dopo l'ultima legge finanziaria che ha azzerato il contributo annualmente destinato al Corfilac dal socio Regione. Il Comune di Vittoria ha erogato alla SEA la ditta che aveva in appalto il servizio di igiene ambientale, 359 mila euro, rispettando così l'accordo tra le parti dello scorso 3 marzo. Avevamo assunto l'impegno di pagare, dichiara l'assessore Fiorellini, in occasione della riunione del tavolo di concertazione in Prefettura, alla presenza dei sindacati, degli operatori ecologici e dei rappresentanti della SEA. E oggi abbiamo erogato le somme dovute alla ditta. Gli uffici stanno ora predisponendo ai conteggi e gli atti per il pagamento di periodi di proroga del servizio. E siamo alla cronaca. Tre siracusani sono stati denunciati dalla Polizia della Questura di Ragusa per truffa ai danni di una donna rumena che aveva acquistato una macchina di grossa cilindrata. Non erano nuove a truffare le persone. Tre siracusani, già in passato coinvolti in episodi di truffa, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria con l'accusa di truffa aggravata e falsità materiale commessa dal privato, dal personale dell'ufficio volanti della Questura di Ragusa. Vittima della truffa, una donna rumena che nel 2014 aveva visto su un sito internet vendite online di autovetture di grossa cilindrata con tanto di foto e descrizione. La donna dunque aveva deciso di contattare il venditore per delucidazioni sul mezzo da eventualmente acquistare. Si reca sul posto dove la macchina era messa in vendita. La compra consegnando un assegno al venditore che nel frattempo aveva assicurato che da lì a breve le avrebbe inviato tutta la documentazione per la circolazione del mezzo. Ma nonostante le rassicurazioni e le continue sollecitazioni da parte della donna nei confronti del venditore, nessuna documentazione le veniva inviata, solo fogli di via semestrali che secondo il venditore le sarebbero serviti per utilizzare la macchina. All'improvviso, agli inizi del 2016, la ricezione di questi fogli veniva interrotta. La donna allora cercò di contattare il venditore che però non risultava raggiungibile in quanto aveva disattivato tutte le utenze telefoniche utilizzate precedentemente. Di conseguenza non è rimasto altro alla donna che rivolgersi alla polizia dell'ufficio volanti della questura di Ragusa, diretto dal commissario capo Filiberto Fracchiolla. La polizia ha raccolto tutti gli elementi e dall'incrocio sulle banche dati in uso alle forze dell'ordine e risalita l'individuazione dei tre siracusani. Dalle indagini, l'autovettura venduta alla donna risultava già cancellata dal pubblico registro automobilistico, mentre la documentazione che era stata fornita era risultata falsa, utilizzando impropriamente la denominazione di un'agenzia di disbrigo pratiche della Campania. E due gli arresti, oltre numerose perquisizioni e controlli veicolari, sono i numeri del bilancio dei controlli della Compagnia dei Carabinieri di Vittoria contro ogni sorta di reato, specie quelli di natura predatoria, compiuti nelle aree rurali e più isolate dei comuni rientranti nella giurisdizione. Sono due le persone arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Vittoria nell'ambito dei servizi di controllo del territorio. Si tratta di due pregiudicati, un vittoriese di 26 anni che è evaso dagli arresti domiciliari e di un 49enne di Acate. Entrambi sono stati arrestati per reati contro il patrimonio e per violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. I Carabinieri di Scoglitti, infatti, hanno arrestato il 26enne perché è evaso dai domiciliari. Ennesima violazione, motivo per il quale si sono aperte le porte del carcere per il giovane su disposizione del sostituto procuratore presso il Tribunale ebleo Valentina Botti. L'uomo, già con precedenti lo scorso 11 marzo, era stato notato dai militari dell'arma mentre camminava in una via del centro. Alla vista dei Carabinieri è scappato, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato. A Acate, invece, è stato raggiunto un 49enne già con precedenti penali per reati contro il patrimonio da un ordine di carcerazione finalizzato all'applicazione della misura limitativa della libertà personale. L'uomo dovrà dunque scontare la pena residua di quattro mesi di reclusione ai domiciliari. I controlli poi hanno riguardato 30 perquisizioni, 136 veicoli controllati e 227 persone identificate. Anche in prossimità delle festività pasquali, i Carabinieri intensificheranno il pattugliamento in tutto il territorio ricadente nella giurisdizione della Compagnia Vittoriese. E siamo al maltempo, il maltempo che ha colpito il territorio ibleo nelle ultime 24 ore e dovrebbe cessare a partire già dalla giornata di domani. Intanto continuano gli interventi della protezione civile per i punti critici del territorio, anche se nel pomeriggio non si sono registrati ulteriori interventi. Il sole dunque dovrebbe arrivare già da domani, quindi Pasqua e Pasquetta all'insegna del bel tempo. L'ondata di maltempo che nelle ultime 24 ore ha colpito la Sicilia sudorientale dovrebbe cessare entro la giornata di oggi. Il maltempo di questi giorni ha provocato diversi danni e disagi. Questa mattina incidente stradale all'entrata di Scoglitti. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani. Ad essere state coinvolte nell'impatto due autovetture. Sono rimasti feriti due 45 anni di Vittoria, uno dei quali ha riportato un trauma cranico, l'altro una policontusione. Entrambi sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Per fortuna niente di grave, se la dovrebbero cavare in pochi giorni. Intanto il forte vento, che ha superato i 40 nodi, ha provocato danni nelle zone costiere, soprattutto nelle serre e ai pari dell'illuminazione pubblica. Un intervento in tal senso si è registrato ieri in via Miraglio Rizzo, a Marina di Ragusa, mentre sulla strada statale 194 Modica-Pozzallo alcuni pini sono stati divelti dal vento cadendo sulla strada. Sul posto per liberare l'arteria dagli alberi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica. A Ragusa, invece, in Corsa Italia e in Viale Europa, è stato necessario l'intervento di una squadra della protezione civile per eliminare alberi sradicati dal vento e rami caduti sulla carreggiata. La protezione civile continua i controlli di monitoraggio dei punti critici del territorio, che sono a maggior rischio idrogeologico in caso di abbondanti piogge. Ciononostante, il fine settimana pasquale dovrebbe essere baciato dal sole, così da favorire chi ha deciso di trascorrere questo festivo weekend in gite fuoriporta. Il sindaco di Modica Ignazio Abbate ci ha promesso la nuova scuola, ma dov'è? È la domanda che si pongono i rappresentanti dei genitori e degli alunni che frequentano la sede distaccata dell'Istituto Comprensivo Ciaceri, presso il Boccone del Povera, al quartiere Dente. I genitori ormai stanchi rompono il silenzio con una lettera, in cui chiedono l'immediato trasferimento, così come promesso dal primo cittadino. La lettera, recapitata lo scorso 8 marzo a Palazzo San Domenico a Modica, in cui si sollecitava il trasferimento delle sezioni di scuola materna e primaria dell'Istituto Comprensivo Ciaceri, attualmente ubicate al distaccamento Boccone del Povero, ad oggi è rimasta ancora senza risposta. È il senso di una dura nota firmata dai rappresentanti dei genitori, degli alunni di prima, seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e delle sezioni A, B, C, D della scuola materna dell'Istituto Comprensivo Ciaceri di staccamento Boccone del Povero. Dopo anni di attese, i genitori sono stanchi e hanno deciso di rompere il silenzio, perché pretendono una risposta da parte del sindaco di Modica, Ignazio Abate. Chiedono spiegazioni al primo cittadino in merito al mancato trasferimento delle classi alla nuova sede, così come era stato assicurato da Abate. I genitori scrivono che il primo cittadino a fine giugno 2015 aveva assicurato anche agli insegnanti che i ragazzi avrebbero potuto frequentare il nuovo anno scolastico 2015-2016 in una nuova sede più sicura, spaziosa e antisismica. Ad oggi però, scrivono i genitori, oltre a metà dell'anno scolastico siamo ancora nel vecchio stabile, quello adiacente il boccone del povero al quartiere Dente. Una struttura inadeguata, con aule piccole e umide, un solo bagno, nessuno spazio comune né aree esterne fruibili. Quali questioni burocratiche, tecniche e probabilmente politiche, scrivono i genitori, impediscono di dar seguito alle promesse di garantire una scuola più sicura e dignitosa ai nostri bambini. Più volte nel corso dell'anno siamo stati informati di un imminente trasferimento mai avvenuto. Le chiediamo, continua la nota, quindi pubblicamente, di farci sapere il perché di questo ritardo e dei continui rinvii. Dall'inizio dell'anno scolastico è in corso, infatti i nostri figli, scrivono i rappresentanti dei genitori e i loro insegnanti lavorano ancora, come da anni, in condizioni di assoluta precarietà, in più buona parte del materiale scolastico, già pronto per il trasferimento, più volte ipotizzato come imminente, è rimasto negli scatoloni e alcuni progetti didattici sono ancora stand-by nell'attesa di spazi adeguati al loro svolgimento. Finora abbiamo pazientemente atteso, scrivono i genitori, ma Pasqua è alle porte, non possiamo più aspettare oltre. Pretendiamo che si rimuova immediatamente ogni ostacolo al trasferimento e che entro le festività pasquali si dia seguito in breve a tutte le operazioni necessarie per garantire ai nostri figli spazi sicuri e salubri dove studiare e apprendere serenamente, come nel loro diritto allo studio. Qualora questo non dovesse accadere, continuano i rappresentanti dei genitori, degli alunni, con Rammarico ci vediamo costretti a mettere in atto azioni di protesta incisive e plateali. La Dea Bendata ha baciato un ragusano che ha vinto al 10 e l'8 quasi 32 mila euro con una giocata di soli 2 euro. Il fortunato giocatore ha utilizzato la modalità estrazione e collegata all'estrazione serale. Il giocatore ha confrontato i 10 numeri giocati con i 20 delle prime due colonne del notiziario delle estrazioni dell'8 iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine, indovinandone 9 su 10. Parliamo del Consiglio Comunale di Modica ieri sera che si è riunito per parlare di Question Time. Ha approvato il progetto di svincolo autostradale, rimodulato il tempo di accesso agli atti delle partecipate dei consiglieri. Quattro le interrogazioni ieri sera in Consiglio Comunale a Modica dedicato alla Question Time. Il consigliere Cavallino ha puntato l'attenzione sugli stipendi arretrati che devono ancora percepire i lavoratori della SPM della ditta Puccia proprio in prossimità delle festività pasquali chiedendo i chiarimenti in merito. La risposta arriva dal sindaco evidenziando come nell'incontro avuto con il prefetto di Ragusa si è proposto di diffidare la ditta, pagare gli emolumenti e se così non fosse stato, ha detto ancora il primo cittadino, sarà l'amministrazione a farsi carico, versando 450 mila euro non appena ci saranno i trasferimenti dallo Stato e dalla Regione per l'anno 2015. Per quanto riguarda invece la SPM è stato pagato uno stipendio e un mandato è stato fatto a favore di chi si occupa dell'assistenza e diversamente abili. Chiusa la parentesi dell'avvertenza ditta Puccia ed SPM, la Civica Assisi apre la Question Time con l'interrogazione del consigliere Andrea Rizza che ha parlato dell'attività svolta dagli uffici di Stato civile che si trovano al Palacultura. Erano cinque le unità lavorative a detto Rizza, due di queste che sono in possesso della delega per la firma e la registrazione degli atti andranno in pensione, il tutto senza esserci il tempo di formare nuove persone. Criticità anche all'ufficio urbanistica. Dopo i contatti con la prefettura, risposto all'assessore Lorefice, si sta organizzando un corso per i dipendenti dello Stato civile. Si passa poi all'interrogazione del consigliere Giovanni Spadaro, cofirmatario Carmelo Cerruto, sulla mancata manutenzione del muro crollato in via Michele Pulino e il ponte che collega il prolungamento della via con la parte bassa del quartiere Dente. L'assessore alle manutenzioni linguante ha riferito in aula che per quanto riguarda il muro crollato è stato ritirato il parere del genio civile e a breve sarà fatta la gara per i lavori di sistemazione. Per il ponte invece c'è un problema di manutenzione, si sta predisponendo un progetto per la sostituzione dei parapetti. Il tutto, secondo linguanti, dovrebbe essere realizzato entro la fine dell'anno. I consiglieri Spadaro e Cerruto intervengono sull'installazione dei nuovi pali di illuminazione in via Boccone del Povero per dare sicurezza ai pedoni che camminano al buio. I consiglieri hanno proposto di installare pali di illuminazione che saranno tolti dalla via Sacro Cuore dove è in corso un ammodernamento dell'impianto di illuminazione. Quei pali, ha detto il sindaco, saranno sistemati in una traversa di Corso Sandro Pertini mentre l'illuminazione di via Boccone del Povero sarà sistemata con nuovi bandi di gara. Si passa poi alla discussione dell'autostrada Siracusa-Gela, in particolare dello svingolo sulla SS 194 Modica Pozzallo, la cui delibera di approvazione del progetto è stata adottata a maggioranza con 18 voti favorevoli ai due stenuti. Unanime invece il voto sulla riproposizione del regolamento sul controllo interno delle partecipate ovvero sui tempi di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali dopo che il TAR, sul ricorso del consigliere Castello, aveva cassato la tempistica 30 giorni per l'accesso agli atti. Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità tra poco. È stata inaugurata questa mattina al Commissariato di Polizia di Vittoria la posa della scultura del maestro Alfio Nicolosi alla presenza del questore Giuseppe Gammino. L'opera, denominata Hercules, è una scultura su pietra dura delle dimensioni di 70x75 cm realizzata dal maestro alcuni anni fa, consegnata al Commissariato di Polizia che ne ha predisposto un allestimento al primo piano della struttura affinché sia fruibile e apprezzabile dal personale in servizio e dal numeroso pubblico che giornalmente ne frequenta gli uffici. La Polizia a sua volta ha consegnato al maestro Nicolosi per il gesto avuto nei suoi confronti la targa in ricordo della giornata. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, termina qui questo appuntamento con l'informazione sul video mediterraneo. Grazie come sempre per averci scelto, vi auguro una buona serata. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.